Del linguaggio non verbale e della sua rilevanza nella comunicazione ho parlato più volte nei miei video e ti basta scorrere la playlist briciole di comunicazione per trovarne davvero parecchi. Oggi vorrei offrirti alcuni spunti riguardo il linguaggio non verbale dei leader, come si muovono le persone che hanno un ruolo di guida per gli altri e quali sono le differenze tra un leader maschio e una leader femmina sul piano non verbale. Sono Sergio Massi, mi occupo di facilitare le cose tra le persone, ho già scritto un manuale che parla proprio di questo e tra poco arriva il secondo. Ci vediamo dopo la sigla. Beh, innanzitutto credo sia buona cosa ricapitolare i principi cardine della comunicazione non verbale, tenendo a mente che si esprime soprattutto attraverso cinque canali, che sono il canale cinesico sul quale osserviamo i movimenti e le gestualità, il canale prossemico, ovvero la gestione degli spazi e delle distanze tra gli interlocutori, di cui abbiamo già parlato in una puntata dedicata, il canale aptico che riguarda la modalità di contatto e autocontatto manuale, nel quale troviamo anche tutto il meraviglioso linguaggio dei pruriti analogici, il canale vocale, ovvero l'intonazione, l'intensità, il ritmo, il tono della voce, i suoni non verbali che emettiamo come i sospiri, i raschiamenti della gola, i suoni nasali, ma anche i silenzi, e per finire il canale cronemico, che riguarda i tempi della comunicazione, le pause, il ritmo, l'alternanza dei turni tra chi parla e chi ascolta, e qui troviamo anche le fastidiose interruzioni di qualcuno che interviene mentre l'altro sta ancora parlando. Al di là delle parole e dei concetti espressi sul piano razionale, i contenuti logici del discorso, questi segnali esprimono dei significati molto interessanti, che sono analogici o metalogici, che i rispettivi inconsci degli interlocutori registrano sempre. Si tratta di indicatori, mai di verità assolute, ma sono molto utili da osservare. Il linguaggio non verbale opera direttamente sul piano emozionale, dove la logica è piuttosto vacante. Il nostro interlocutore ha spesso reazioni emotive, riassumibili in gradimento, rifiuto, apertura, chiusura, e questo vale per qualsiasi interazione umana. Oggi, come dicevo, vorrei porre l'attenzione sul canale cinesico della leadership. Esiste un'interessantissima ricerca, dal titolo molto difficile da pronunciare per chi come me non è un grande parlatore in lingua inglese. Ci provo. Perception of Power and Interactional Dominance in Interpersonal Relationships. Sarebbe tradotto la percezione di potere e di dominio interazionale nelle relazioni interpersonali. È stata portata avanti dalle professoresse Nora Dunbar della California State University di Long Beach e da Judy Bargoun. Questa ricerca aiuta a capire quanto l'uomo e la donna siano diversi nell'espressione di potere sul piano verbale e anche su quello non verbale. I gesti percepiti come dominanti, i cosiddetti dominant gestures, sono quelli che vanno dall'alto verso il basso e mostrano all'interlocutore il dorso della mano, ma il palmo. Eseguiamo questo tipo di gesto con varie motivazioni inconsce. A volte parlando con l'altro partiamo dall'alto e appoggiamo la mano sulla spalla. Altre volte copriamo un oggetto mostrando il dorso della nostra mano per dimostrare che è di nostra proprietà. Altri ancora puntiamo il dito su un concetto per sottolineare che quella cosa si deve fare come la vogliamo noi. Alcuni leader in questo modo comunicano un concetto ben preciso. Nessuna discussione si fa come dico io. Tutto va bene quando arrivano a questo gesto definitivo dopo aver aperto le opinioni diverse del gruppo, ma ritengono ancora di avere in mano la soluzione migliore. Un leader a un certo punto deve anche saper dire no se ritiene che le proposte ascoltate non siano idonee all'obiettivo, ma che almeno le ascolti. Chiudere sempre il becco agli altri con un gesto dominante già in prima battuta disabilita ai collaboratori. Ci vuole equilibrio. Imporre la volontà di leader è un diritto, spesso è anche un dovere, e i movimenti dominanti che accompagnano questo atto servono proprio a far capire meglio agli altri che si devono attenere alle direttive. Tuttavia è bene che prima il leader si mostri aperto allo scambio di visioni e consigli, che sia disponibile a ragionare e a sviscerare insieme al gruppo le questioni. Quando a essere leader è una donna, seppur ne usi di gran lunga meno rispetto all'uomo, i suoi gesti dominanti trovano spesso collaboratori maschi non molto propensi ad accettarli. Alcuni di loro, nonostante si mostrino d'accordo a parole sull'eseguire il compito come ordinato da lei, fanno fatica ad abbandonare la propria visione patriarcale e coveranno inconsciamente qualche riserva sulle sue decisioni. In generale donne e uomini hanno due vocabolari sostanzialmente differenti sul piano non verbale. Le donne usano movimenti più aperti, mostrano più spesso i palmi delle mani, che per l'inconscio sono simbolo di apertura, di accoglimento, ascolto, disponibilità, fiducia. Nel ruolo di leader è più facile che sia una donna a chiedere come vogliamo procedere rispetto a un uomo che invece prediligia un atteggiamento sportivo o militare e tende a dire la sua prima degli altri. Il leader maschio parla e si muove su idee di attacco e strategia. In Italia si usa molto la metafora calcistica, si parla di falli, di fuorigioco. La leader donna, proprio in quanto donna, è più portata a mascherare i propri desideri sotto forma di possibilità. Domanda e accompagna il gruppo in una manovra molto più persuasiva e coinvolgente. Quando ne è costretta, esprime senza a mezzo i termini ciò che vuole o come deve essere portato avanti un compito, ma non usa i gesti dominati, tranne in rare eccezioni. Tuttavia riesce a mostrarsi dominante proprio quanto sa fare un uomo. Si tratta solo di modalità differenti. La donna leader usa meno i termini di battaglia o guerra, ma esprime questi concetti con i gesti, ad esempio con il pugno serrato, molto più usato in riunione di brainstorming dalle donne che dagli uomini, anche se questo è abbastanza incredibile. Il leader uomo invece con i suoi gesti durante una riunione taglia, recide, afferra il suo mondo non verbale condito da dimostrazione di forza e per questo viene percepito come poco disponibile a un'apertura di dialogo rispetto a quello della donna, che tende a mantenere un discorso aperto, un ascolto attivo. Le donne dimostrano spesso la capacità di dominanza pur senza puntare tutto sulle espressioni di forza, come fa al contrario l'uomo. Oggi condurre un gruppo non significa più imporre la propria visione a costo di scontri e conflitti. In un mondo di egocentrici il leader di oggi deve riuscire a sfruttare il più possibile le energie esistenti e le sinergie potenziali all'interno di una squadra. E in questo gli uomini hanno molto da imparare dalle donne. Ci diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 11 del mattino, per una nuova puntata di Briciolo di comunicazione. Grazie a tutti.